eccomi bentornati su my football jersey oggi vediamo una maglia che avevamo già visto nella versione fan trovate qui in alto la recensione la prima maglia del flamengo per la stagione 22 23 questa volta in edizione player le tradizionali strisce rosse nere presentano un design a onda alludendo alle bandiere rosso nere che sventano negli stadi le maniche sono nere così come il colletto i polsini delle maniche sono neri e rossi una toppa speciale in basso a destra presenta una bandiera che recita a mayor paixau du mundo la più grande passione del mondo la maglia authentic la versione indossata in campo dalla squadra la vestibilità più aderente rispetto alla versione fan è progettata per il fisico dell'atleta questo prodotto contiene il 100 per cento di materiali riciclati ed è solo una delle soluzioni di adidas per la lotta contro l'inquinamento causato da rifiuti plastici la maglia è strepitosa nella mia classifica questa prende 5 stelle il massimo la qualità è ottima i colori sono brillanti veramente confortevole una maglia che vi consiglio assolutamente qui in alto vedete il costo che vi ricordo include anche le spese di spedizione la maglia è fatta bene e i tempi di spedizione sono stati eccellenti questa è arrivata in 18 giorni in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia quindi che cosa aspettate andate a vedere sul sito questa e altre bellissime maglie che vi attendono ora prima di lasciarvi alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità io vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia large della versione player